Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi giocheremo a Farming Simulator 18 oggi dobbiamo raccogliere delle palle e dobbiamo aspettare che c'è la cosa delle piccole che devo andare a vendere le piccole se riesco ad andare a vendere le piccole facciamo un po' di bei soldini ho svuotato un po' il silos della corsa e ho comprato un trattore nuovo ok ok perfetto oggi è anche Halloween quindi scrivetemi nei commenti cosa farete questa sera bene noi oggi giochiamo a Farming e portiamo via delle belle che così le nostre belle pecore le possiamo andare a vendere ok intanto questo lo mandiamo via il magazzino il maestante è pronto perfetto aspetta che questo ha finito ok allora adesso aspetta che freghiamo un attimo ah questa aspettiamo un attimo la metterà a posto aspettiamo adesso andiamo un attimo intanto la raccogliamo la raccogliamo anche qui e mi serve questo qua su ok intanto sta arrivando intanto potremo anche avviare questa e infatti la avviamo e facciamo la pula molto bene ok ok questo ancora non è da usare ho comprato questa 3 spucche così diamo l'etame molto bene ok ok intanto questa è arrivata e scarichiamo il magazzino intanto abbiamo fatto un timorchio via via ci siamo a 100.000 ok 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 qui siamo a 100.000 di corso perfetto tanto noi possiamo continuare a raccogliere le palle ok e adesso possiamo iniziare a radarare il campo intanto questo è arrivato questo è finito bene 90% 93-94% ok abbiamo questa così tanto noi possiamo mettere via questo intanto lo portiamo via perfetto molto bene ok 31% siamo già pieni voilà visto già pronti siamo con un 31% quindi bene 32% qui qui ci togliamo i nostri bellissimi girasoli abbiamo solo 27.000 euro però aspetteremo ancora un po' capito capito bene qui è ancora una levatura qua è finito 71% pieno niente male ma sì che glielo mandiamo manda qua il biogas lo mandiamo ok perfetto siamo a 27.000 euro però adesso arriveranno pure un po' di soldi adesso vi dico quanti soldi dovrebbero arrivare aspettate che guidiamo noi dove ok stop qui ah qui non siamo pieni bene nella 1 nella 1 mettiamo nella 1 così non siamo pieni ok magazzino pieno bene intanto hanno portato pochi soldi e voilà ok iniziamo con l'ultimo ci va sì sì ci va ok 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 beh niente male dai un po' di soldi ci sono benissimo 65.000 euro abbiamo allora adesso dobbiamo seminare e adesso sì che è un problema perché la seminatrice andrà giù i soldi perché è più suota quasi capito tanto qua siamo già al 59% pieno molto bene e adesso scarichiamo qui mettiamo qui un po' indietro perfetto no no è perfetto ok state perfetto ok via ok va benissimo così poi adesso andiamo a raccogliere ah intanto qua l'erba è già pronta fammi dire sì l'erba è pronta ah vabbè dai aspettiamo affinché l'altro trattore non è finito capito va bene pure 50% siamo pieni bene 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 l'ottimo lavoro lo stiamo facendo adesso mi serve no no l'ho avviata l'asseminatrice sì sì l'avevo avviata perfetto andiamo di fare un po' di soldi che verranno un po' sui soldi se io le do quadrate le balle molto bene andiamo compà haha anche voi guardate Nick a me piace moltissimo bene 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 va benissimo ok va bene 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 75 vero 81 88 90 qualcosa no 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 94 quasi siamo a 100% ah arrivano quelli della asseminatrice vabbè non ha tolto tanto tanto solo 10.000 euro mica male allora qui non ce n'abbiamo bisogna andare a venderle piccole benissimo ok quindi ok va bene va bene tranquillo ci sono ci sono ci sono ha finito bene adesso arrivano gli altri soldi per le piccole quando dovrò scaricare capito ok ok via perfetto molto molto bene siamo al 50% di cosa stanno arrivando le balle mi spagheranno anche le balle molto bene ok ok la lana sono andata a venderla ok la lana sono andata a venderla ok ok togliamo questo questo lo mandiamo quassù intanto va bene questo qui che ormai si è bloccato qui vabbè un po' di soldi sulla fiducia 4.000 sono tornati bene bene ah sulle balle giusto ok tutto perfetto adesso ci serve anche un trattore ok ok perfetto intanto noi possiamo staccare qui l'attrezzo tanto non non credo che ci serva e andiamo aspettate andiamo a vendere gli animali molto bene con il nostro con il nostro con la cosina che abbiamo ok avvia fino al del piccolo c'è solo un problema ci passa si si ok molto bene carichiamone tante ok e le mandiamo un'azienda 3000 a vendere adesso arrivano i soldi molto bene arrivano fammi dire quanto me ne pagano perché saranno portato costerà ma 3.000 saranno 30.000 euro quindi sì sui 90 mila euro faremo già non adesso però faremo 30 mila euro come vi dico arriveremo a 88 mila euro via si parte 61 64 80 88 mila euro siamo molto bene quindi io ragazzi direi di chiuderla qua iscrivetevi al canale e ricordatevi di di accendere sempre la campanella per le notifiche e ci vediamo lunedì con un nuovo video di questo perché sabato ci sarà il video da l'inter va bene ciao a tutti ragazzi ciao